Adesso è il momento di spezzare il tabù, battere Trieste per trovare posizioni nobili nella griglia play-off. Lupea è partita per la trasferta che la farà incrociare con un'avversaria desiderosa di riscattare il pesante K.O. subito domenica scorsa a Barcellona contro la Sigma ed a caccia di punti salvezza matematica. Quando alleno non ho mai vinto contro Trieste, soffrendo soprattutto la loro enorme intensità e freschezza. L'anno scorso non c'è stata partita proprio totalmente, quest'anno sono stati molto ma molto bravi, in quel periodo poi erano totalmente indemoniati. Un periodo che poi tra l'altro è continuato perché da quando poi si sono risistemati prendendo questo Wood i conti tornano oggi come oggi. Sarà una partita sicuramente complicata e importante per noi. Si scende in campo domani pomeriggio alle 18 con diretta su Antenna del Mediterraneo.